Dopo sei anni la famiglia Grieco lascia il comando dell'audace Cerignola. La notizia era nell'aria, come il silenzio intorno al club giallo-blu nelle ultime settimane aveva lasciato pensare ed è diventata ufficiale nella mattinata di mercoledì 24 giugno. Il presidente Nicola Grieco ha infatti comunicato la cessione dell'intero pacchetto societario del club al giovane imprenditore cerignolano Luigi Caterino, titolare di un'impresa di costruzione e restauri. Già da tempo, vicino al cerignola in qualità di sponsor, Caterino eredita la guida di un club che la famiglia Grieco ha portato nell'arco di sei anni dalla prima categoria a un passo dalla Serie C, sfiorata nell'estate 2019 quando l'audace era stata fino a inizio agosto in lizza per il ripescaggio dopo la vittoria dei play-off nel girone H di Serie D. Sono orgoglioso di prendere il testimone del presidente Nicola Grieco e della sua famiglia, sono le parole di Caterino, per tenere sempre alto il nome dell'audace Cerignola. Il mio impegno sarà continuo in piena sintonia con squadra e tifoseria. La vecchia proprietà resterà comunque vicina alla nuova gestione societaria con attività di accompagnamento e sponsorizzazione. Tra le prime tappe che l'era Caterino dovrà affrontare, oltre alla possibile conferma di mister Feola e del DS di Toro, ci sarà l'allestimento dell'organico per la prossima stagione, con la posizione di nomi del calibro di Rodriguez, Sansone, Longhi e Coletti, tanto per citare alcuni dei giocatori portati a Cerignola dall'ultima gestione Grieco, da valutare. Sono stati anni bellissimi, fatti di gioie indimenticabili, ma nel calcio, così come nella vita, ogni ciclo ha un inizio e una fine, sono le parole di saluto di Nicola Grieco. Durante la sua gestione, l'audace ha fatto registrare record di punti in prima categoria e in promozione, 84 su 90 nell'annata 2015-2016, raggiungendo la Serie D nel 2017. A quattro anni di distanza dal fallimento societario, successiva la sconfitta nella finale nazionale di Coppa Italia di D contro la Fermana, e dopo una stagione, la 2013-2014, senza calcio in città. Sono stati anni ricchi di vittorie, li ricorda l'ormai ex presidente. Nella separazione ci sarà una mano tesa per i più deboli. I Grieco hanno infatti deciso di devolvere in beneficenza il corrispettivo di vendita delle quote societarie.